Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. La settimana in Friuli Venezia Giulia si caratterizza per la diminuzione dell'indice RT che cala allo 0,68, il terzo più basso d'Italia dopo Veneto e provincia di Trento e permette alla regione dunque di tornare in fascia gialla. Il trend in diminuzione dei ricoveri ordinari e delle terapie intensive di questi giorni fa ben sperare in un consolidamento. Il passaggio in fascia gialla ci rende soddisfatti ed è certamente un sollievo per le categorie economiche e i lavoratori, ma non deve essere interpretato dai cittadini che hanno dimostrato finora senso di sacrificio e responsabilità come un liberi tutti e in sintesi l'analisi fatta dal governatore Massimiliano Federiga sull'andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia nell'ultima settimana in previsione dei prossimi sette giorni. Si tratta di un'opportunità per le attività che sono rimaste chiuse di ripartire e di agganciare la normalità, ma proprio a sottolineare che la prudenza deve essere massima per non gettare al vento i sacrifici che abbiamo alle spalle per continuare a preservare le strutture sanitarie da una insostenibile pressione, si va ad emanare una nuova ordinanza che ricalca alcune linee simili a quella che è stata concepita per il precedente periodo in cui la regione era in fascia gialla, ha spiegato Federiga. Venezia è stata nuovamente protetta dalla Mose quando l'acqua alta raggiunta in mare la punta di 118 cm misurata alle dighe del Lido. Il sistema di barriere era stato sollevato già nella tarda serata di sabato e ciò ha mantenuto il livello dell'acqua sui 75 cm nella laguna interna 2 cm in più. Era prevista ieri una massima di un metro e l'ufficio del commissario di governo per il Mose ha deciso di annullare il nuovo sollevamento previsto. Le bocche di porto dunque rimangono aperte, 100 cm Venezia vive un periodo e un episodio di marea sostenuta come in passato che allaga tuttavia solo una piccola parte del centro storico. Nel resto della regione il maltempo ha portato forti piogge in pianura e nuove nevicate in montagna su Dolomiti e Prealpi. A Cortina si misurava un manto fresco di 10 cm in quota allo spessore accumulato della neve a 2 metri e mezzo. Ancora cronaca brutta caduta su una pista da sci per una bambina residente a Trieste. La piccola si stava allenando a Sauris di sopra con uno sci club del capologo Giuliano. Quando è caduta la bambina è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, ha riportato un trauma al bacino. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero del 118 che non è riuscito ad atterrare a causa delle condizioni meteo avverse. La bambina è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo in ambulanza. Gli agenti della Polizia di Stato di Milano e di Vicenza, coordinati dalle procure di Milano e Vicenza, hanno sgominato un gruppo di cittadini originari dell'Est Europa, dedito a furti e rapine in villa. Tra gli arrestati, dagli agenti della seconda sezione della squadra mobile di Milano, con i colleghi dell'omologo Ufficio della Questura di Vicenza per aver tentato di rapinare un imprenditore vicentino all'interno della sua villa nella città di Lonigo, Vicenza. Al alcuni giorni prima i rapinatori, uno sloveno, un bosniaco, un kossovaro, avevano programmato un colpo a Rimini, sventato grazie all'intervento di una volante della Questura, che nell'ambito dell'operazione ha finto un controllo occasionale che aveva portato i malviventi ad esistere. Le intercettazioni hanno fatto capire che avrebbero colpito Vicenza e qui sono stati catturati mentre cercavano di assaltare la villa dell'imprenditore e con loro avevano anche bombolette di spray urticante. La ripresa economica dell'Italia è legata a 211 miliardi di euro messi a disposizione dall'Unione Europea con il Recovery Fund, risorse importanti che saremo chiamati a investire entro il 2026, anche se, sottolinea la CGA di Mestre, non dobbiamo dimenticare che ogni anno al netto degli interessi sul debito e la spesa pubblica italiana si aggira intorno ai 900 miliardi, quasi 700 in più, rispetto alle risorse che dovremo spendere in sei anni con il Recovery Fund, una spesa a quella pubblica che oltre il 91% è di parte corrente e viene usata per liquidare gli stipendi dei dipendenti pubblici, per consentire i consumi della macchina pubblica e per pagare le prestazioni sociali. Sport Calcio Spezia Udinese finisce 0 a 1 in un match della ventesima giornata del campionato di Serie A, decide per l'Udinese De Paul su calcio di rigore al 52esimo. Buone energie e tante piccole felicità, è in edicola il nuovo Almanacco Barbanera. Consigli di buon vivere per la vita in casa, la famiglia, il benessere, l'orto, il giardino e il balcone, seguendo la luna e le stagioni. Almanacco Barbanera 2021, in edicola con due preziosi regali, l'oroscopo 2021 e il calendario la luna in casa, per un nuovo prezioso anno di felicità. Domani, sul Friuli Venezia Giulia, cielo variabile. Al mattino sulla costa bola moderata, mentre nel Tervisiano e localmente anche nei fondovalle più interni, presenza di nubi basse. Temperature minime in pianura da 0 a più 2 sulla costa da 2 a 5 gradi, massime ovunque da 7 a 9 gradi centigradi. Passiamo al Veneto, alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti. Fino all'alba alcune nebbie in Valbelluna, al mattino in dissolvimento, di sera in nuova formazione anche sulla pianura. Temperature in prevalenza più basse anche di molto, fino a metà mattinata sulla pianura di pomeriggio senza sostanziali differenze, valori prossimi alla norma. Venti deboli moderati sulla pianura al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile e in alta montagna da ovest. Mare poco mosso. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, agenzia regionale per la prevenzione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie. Grazie.